Prima di ripercorrere le tappe salienti della biografia di Aristotele occorre dire qualcosa sul contesto storico e culturale della Grecia in cui Aristotele si trova a vivere. Rispetto a Platone non sono passati molti anni, non c'è una grande distanza cronologica temporale che separa Platone da Aristotele, circa una quarantina d'anni. Ma in questi 40 anni il quadro politico-culturale della Grecia è profondamente mutato, ha conosciuto dei cambiamenti sostanziali. Negli ultimi decenni del IV secolo a.C. infatti le poleis grecche si indeboliscono profondamente a causa dei lunghi contrasti che le oppongono e che le dividono tra loro. Di questo declino approfitta la potenza macedone, ossia la realtà politica che nasce in quella regione periferica rispetto al Peloponneso, quella regione situata insomma ai confini della Grecia ma che appartiene pur sempre al mondo greco, anche se gli ateniesi snobbavano i macedoni ritenendoli quasi non greci. Il sovrano macedone Filippo amplia così la sua area di influenza sulla penisola greca, approfittando proprio della debolezza delle poleis dovuta alle lotte intercittadine. Nel 338 a Cheronea Filippo sconfigge l'esercito della Lega Greca, convoca a Corinto gli stati greci e propone loro di stringere un'alleanza per la difesa della pace in tutta la Grecia, mettendosi Filippo a capo di questa alleanza come comandante supremo delle forze militari greche. Gli stati greci accettano e aderiscono a questo progetto e quindi le poleis si impegnano a non farsi guerra e quindi a riconoscere la sovranità di Filippo. A questo punto siamo quindi all'inizio del dominio della potenza macedone sulla Grecia e quanto alle poleis ciò comporta, assieme a loro ormai evidente e irreversibile declino, anche la perdita delle libertà. Le poleis vengono infatti incorporate in un organismo statale più grande, quello dell'impero macedone, e sono subordinate a questo punto ad un potere sovrano. In questo quadro politico, il cittadino greco non è più chiamato a compiti amministrativi e di governo e per questo motivo l'interesse per la politica e per la cosa pubblica, quell'interesse che aveva caratterizzato fortemente il progetto delle poleis e che aveva animato profondamente la vita del cittadino greco durante l'epoca del città-stato, ecco, viene a perdersi. Viene meno quindi l'interesse per la politica, quell'interesse che aveva animato la vita pubblica, che aveva costituito un elemento fondante della comunità della polis. E si fanno strada a altri interessi, tra cui quello rivolto all'etica e all'interesse scientifico. Cambia contestualmente in questo periodo anche la figura del filosofo, che non aspira più a essere legislatore e governante, come invece, ad esempio, figurava in modo programmatico nella Repubblica di Platone, in cui il filosofo è un reggitore dello Stato, è un legislatore della città. Il filosofo non è più la guida del rinnovamento etico-politico della società, ma anzi tende a rinchiudersi in se stesso, nella propria sfera privata, come spesso accade nelle epoche in cui si determina una perdita delle libertà individuali, dedicandosi il filosofo a una vita completamente dedita allo studio personale, alla conoscenza, al sapere teorico, inteso però come sapere non finalizzato a qualcosa di pratico, non finalizzato a essere messo a disposizione della comunità, non rivolto a uno scopo pedagogico, morale, politico, non rivolto al miglioramento dei cittadini, ma un sapere disinteressato, cioè fine a se stesso, senza implicazioni pratiche di alcun tipo, un sapere che risponde unicamente al bisogno naturale di conoscere che fa parte di ogni uomo. Questa nuova figura del filosofo è dunque ben rappresentata da Aristotele, che è macedone, ed è legato alla corte macedone, perché è precettore del figlio di Filippo, ossia Alessandro il macedone, Alessandro Magno. Aristotele nasce dunque a Stagira, in Macedonia, nel 384-383 a.C. Il padre Nicomaco è un medico, un medico che opera al servizio del re Aminta, re macedone. Aminta è il padre di Filippo, quindi Aminta, padre di Filippo, e nonno di Alessandro Magno. Nicomaco, padre di Aristotele, è al servizio quindi della corte macedone e del re Aminta, sicché si può presumere che la famiglia di Aristotele abbia dimorato per un certo periodo a Pella, la città presso la quale aveva sede la corte dei re macedoni. Aristotele allora presumibilmente ha frequentato da bambino a questo punto la corte macedone. sappiamo che intorno al 366-65-17-18 anni Aristotele andò ad Atene per perfezionare la sua formazione culturale e spirituale. E dove andò a perfezionare la sua formazione? Nell'Accademia di Platone. Quindi a 17 anni Aristotele diventò un allievo di Platone e lì molto probabilmente scoprì oppure consolidò la sua tendenza naturale alla filosofia. Aristotele rimase vent'anni presso l'Accademia Platonica, vent'anni nei quali frequentò le lezioni di Platone, frequentò gli accademici, gli studiosi, i ricercatori che gravitavano attorno all'Accademia. Sicuramente partecipò Aristotele alle discussioni che venivano quotidianamente svolte in questa comunità di studiosi, di ricercatori. Senz'altro anche egli fu platonico, nel senso che acquisì, fece propri, insomma, i principi della filosofia platonica di Platone e poi dei suoi allievi, discepoli continuatori, prima di allontanarsene e di criticare aspramente la teoria delle idee. Alla morte di Platone, infatti, nel 347, Aristotele decise di allontanarsi dell'Accademia, la cui direzione era stata presa da Speusippo, uno studioso che non seguiva in modo stringente la teoria platonica delle idee, anzi, ma che pure, molto probabilmente, era supposizioni teoriche profondamente diverse da quelle aristoteliche. Quindi Aristotele lascia l'Accademia e lascia Atene e si recca in Asia Minore, prima nella città di Asso, con un altro celebre accademico, Senocrate, e poi a Mitilene, sull'isola di Lesbo. Nel 343-342 inizia una fase che durerà meno di dieci anni, sette anni per la precisione, ma che davvero risulta molto importante nella vita di Aristotele e anche molto curiosa e interessante per la storia in generale, perché due grandi personalità dell'epoca e della storia umana in generale si incontrano incrociando i loro destini per un certo periodo e sono Aristotele e Alessandro Magno. Infatti nel 343 Filippo il Macedone, che probabilmente conobbe Aristotele quando Aristotele era bambino o comunque molto giovane, chiama il filosofo a rivestire il ruolo di precettore di suo figlio Alessandro, che allora era un ragazzino di 13 anni. Aristotele quindi diventa educatore di Alessandro fino al 336, quando poi Alessandro sale al trono di Macedonia. Quindi nel 335 Aristotele torna ad Atene, dove prende in affitto alcuni edifici che sorgono accanto a un tempietto sacro dedicato ad Apollo Licio, Apollo Lycos, cioè Apollo Lupo, e dal nome di Apollo Licio ecco che prende il nome la scuola di Aristotele, ossia il liceo. Il liceo diventerà l'altra grande istituzione culturale e formativa di livello superiore dell'antichità assieme all'Accademia di Platone. Anzi, il liceo si contrapporrà all'Accademia fino a oscurarne anche a un certo punto la fama, fino a che addirittura il liceo oscurerà la fama dell'Accademia. Dall'usanza che avevano nel liceo maestri e discepoli di fare lezione passeggiando lungo i giardini annessi agli edifici della scuola, il liceo fu anche detto peripato, dal greco peripatos, passeggiata, e i seguaci di Aristotele furono detti peripatetici, proprio per questa usanza di camminare durante le lezioni. Sono gli anni questi di più feconda produzione di Aristotele, gli anni che videro la grande sistemazione dei trattati filosofici e scientifici che ci sono pervenuti. Nel 323 muore Alessandro Magno e ad Atene scoppia una grande reazione antimacedone nella quale viene coinvolto anche Aristotele la cui colpa è quella di essere stato maestro del grande condottiero macedone. Quindi per sfuggire ai suoi nemici Aristotele si esilia a Calcide dove aveva dei possedimenti materni lasciando a Teofrasto la direzione del liceo. Infine nel 322 quindi un anno dopo la morte di Alessandro Aristotele muore dopo pochi mesi di esilio sembra per una malattia allo stomaco. Detto della vita nel prossimo video vi parlerò delle opere e della questione degli scritti di Aristotele.